Il vecchio allora, sorridetto, cominciò la sua spiegazione. Devi sapere che una particolarità dei buchi di Venezia è che ogni tanto, apparentemente senza ordine preciso, hanno inglobato tra i mattoni un pezzo di pietra bianca con uno o due buchi. La gente non ci fa caso, i veneziani perché li hanno sempre visti, i turisti perché non li ritengono degni di nota. Una storia racconta che in effetti alcuni sono soltanto buchi nella pietra, altri invece sono fuori d'entrata, per giardini incantati. Mi spiego meglio. Se tu, tu infili un dito, il dito, il re naso, una penna dentro uno di questi esposali, sei preso e portato al di là del muro in un patto di ciglia, alcuni buchi portano in luoghi lontani, terre soviate a lungo, dai viaggiatori, la cina dei polo, la rabbia felice cambia. Vanti si trasformano in animale. Dicono che tutte queste pietre siano arrivate prima dell'anno 1000. a bordo di una nave proveniente dall'Aversandria d'Egitto, il capitano era lontane, ali è il Benin, che aveva pensato di fare grandi affari vendendole, una alla volta, ai rifi della città e della bella ferma. I veneziani, però, ronfinandosi assolutamente di quel mercante e avendo poca immaginazione, non volevano saperle. E allora l'Egiziano, per dispetto nottetempo, andò a incestrarle tutte le muri delle case, delle chiese, dei fonti. Le scolore, quelle buone o quelle rispettose, mise una moretia in fondo al foro e, per un bel po' di anni, si verificarono in città sparizioni misteriose e si videro uccelli pochi dati e cari dai comportamenti stravaganti. si arrestavano donne con l'accusa di stregoneria, alcuni mercanti, assorbiti dai muri, fallirono. E per un po' la città fu sconquassata dai venti e nessuno, nessuno riusciva a farmi salire alla storia delle pietre bucate. Poi, la città. Come sempre, pian piano cominciò a convivere anche con le sparizioni e gli animali stravaganti. del resto, dopo i mille, gli abitanti aumentavano sempre di più ed era nello spinto dei tempi vivere nell'aria di gente di ogni tipo. Grazie.